11 anni in due minuti è il time lapse pubblicato da heard cam nel quale si ripercorrono i lavori di costruzione dello one world observatory la struttura nata là dove un tempo sorgevano le torri gemelle distrutte nel terribile attentato dell'11 settembre 2001 di cui si celebra il 14esimo anniversario non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.